Ciao ragazzi, come sapete ce l'abbiamo fatta siamo ufficialmente in Champions mi sentite nuovamente senza voce ormai siete abituati quando vado a San Siro questi stronzi maledetti mi fanno urlare come un disperato mi fanno anche piangere mi fanno esultare sono pazzi e ormai sappiamo qual è il nostro DNA commentate, iscrivetevi mi raccomando al canale attivando anche la campanella lasciate un bel mi piace ma soprattutto seguitemi sul mio profilo Instagram e sempre in descrizione trovate OneFootball scaricabile gratuitamente partiamo con il video sempre Forza Inter, amala Forza! Forza! Vai Pes Sì, vai Asa, proviamo Trova che c'è il siluro! Oh! Dai! 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 Sì! Sì, vai Asa. La prima volta che entra in G! Sì, vai Asa! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!